Acciughe, sardine, sugarelli, pesce sciabola, muggini, polpi e razze di sabbia. Eccoli i cosiddetti pesci poveri, buoni, nutrienti e soprattutto toscanissimi, ma quasi del tutto assenti dalle tavole nostrane perché non commercializzati e anzi rigettati in mare quando vengono pescati. Per promuovere il consumo di questi pesci dalle tante qualità ma ingiustamente dimenticati, Regione Toscana e Union Camere hanno costruito una campagna promozionale che interesserà tutto il territorio regionale, con serate nei ristoranti di vetrina toscana e incontri con biologi, nutrizionisti e cuochi. Partiamo dal presupposto che questi pesci per direttiva europea non potranno più essere rigettati in mare ma dovranno essere utilizzati al fine di fare farina di pesce. Noi riteniamo che invece per le loro caratteristiche nutrizionali, per le loro caratteristiche anche rispetto alle nostre condizioni di salute sono pesci da poter mangiare. Tenteremo di dimostrare come un prodotto che va a favore non solo del consumatore in quanto lo paga meno ed ha le stesse qualità degli altri prodotti etici ma anche per la fauna etica. Noi importiamo 13 milioni di euro al giorno perché non consumiamo ciò che il nostro mare produce. Il progetto è stato finanziato dalla regione toscana con 100 mila euro e si concluderà nel maggio 2012 con un seminario sulla situazione e le prospettive della nuova politica sulla pesca dell'Unione Europea.